Il vaccino deve essere praticato in qualsiasi circostanza, vaccinazione di massa come ci hanno dimostrato gli israeliani e adesso anche gli americani deve essere fatto in qualsiasi circostanza, le pensi che recentemente ho visto che gli americani vaccinavano in metropolitana, cioè sostanzialmente nel momento in cui una persona passava la vaccinavano, quindi il vaccino è chiaramente un atto medico, quindi non deve essere banalizzato perché non è un qualcosa che è completamente immune da effetti collaterali può avere delle reazioni, reazioni blande, reazioni assolutamente controllabili, per cui è necessario osservare il soggetto per 10-15 minuti dopo la vaccinazione e eventualmente intervenire, però il fatto che è stato già somministrato a decine di milioni di persone proteggendole è un fatto importantissimo e quindi noi dobbiamo ampliare la vaccinazione non soltanto nei luoghi come gli hub o gli studi dei medici medicina generale, ma in tutti gli ambienti di vita di lavoro, nelle scuole, nelle fabbriche e naturalmente perché no, anche nei luoghi adeguatamente attrezzati dove si trascorrono le vacanze.